eccoci qua nuovo episodio di zafiro alfa senza alcuna regola quindi ce lo godiamo al natural dopo tutto sei persino simpatico alfa allora tornando a noi siamo qua io dovrei fare la palestra se la trovo questa è una casa mi scusi lei insegna drago bolide giusto? non ne abbiamo bisogno no me lo spieghi? ok onore lunga vita a noi che ci sbattiamo l'anima dalla mattina alla sera tanto più che il lavoro che faccio non mi dispiace neanche quindi anche se non ti piace puoi andare da un certo punto di vista faccio anche quello non ce l'ho non ce l'ho adesso vediamo se a parte che non sono cavolo di cuore con chi vivo e se vivo anche da solo se vivo con della gente nel senso se lo dico io ho un discorso poi ripeto se non ti piaccio se non se non piaccio non è un problema piaccio già a me stesso piaccio già anche a troppa gente allora surf cerchiamo sta cavolo di palestra che dove diavolo è finita solo lui lo sa chi sei? ti faccia riconoscere? brutto ho trovato la palestra ho cominciato a messi con la squadra direi bene a strumenti prendi grazie lì per pozione mi va bene buonasera amada bentornato sul 40 in questo momento adesso mi da strike gli amici del rusciallo no scusa è la pubblicità questa mi ero confuso ok adesso siamo in palestra però devo concentrarmi perché sennò di qua si va signorina come la mettiamo la squadra migliore del mondo grazie a tutti grazie a tutti ah ok si 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 ho capito il film che è non l'ho ancora visto del tutto ho visto solo dei pezzi ottimo bravo slucking bravo slucking salve salve non l'ho ancora visto del grossico ovvero il giorno sì molto un pak scusare mi la pa Sei lento, amico mio, sei lento. Ottimo! Salve signorina! Stefania! Tadadá! Giustamente Untail! Bravo! Tadadá! 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 Grazie a tutti Immagino che devo avere cascata Ciao Marco Bentornato La run è andata benissimo Ieri abbiamo battuto la lega In un solo botto In una sola live Chissà che mi serve Mi serve cascata No aspetta forse con la bici Ovviamente no Vado a cercare cascata Perché giustamente C'ha ragione lui Se serve cascata usiamo cascata Sembrava strano Ci adeguiamo al sistema E l'abbiamo battuta A livello 61 La lega Che direi È un ottimo livello Beh già che ci sono Parlo con tutti Che se metti che c'è qualcuno Che mi dà qualcos'altro Qualcos'altro Si sa mai Ma anche breccia Non è male Non l'hai visto Figurati Intanto si trova qualcosa Quale diinteressante allora... il problema è dove? se ti dico che non mi interessa? qua mi dice cenerida quindi voglio dire... no non tornare indietro... vai avanti signorina conosci un vecchio? gentilissima la ragazza non so... non so... Grazie a tutti Grazie a tutti La vecchiaia Palestra di Ceneride Direttamente in palestra Andiamo direttamente in palestra Nooo non mi serve Ora mi ricordo Devo fare tutti i bagagli Ho capito Ma ho capito Non mi serve cascata Adesso Servire dopo Ma non adesso Allora Con molta calma e delicatezza Allora Qua da dove iniziamo Perfetto Perfetto Addirittura due allenatori Va bene Allora dove inizio Allora proviamo Così Ho già sbagliato Beh facciamo gli allenatori Poi dopo Poi dopo ti ritorniamo A vedere come fare Ok Ok Il gioco si chiama Io vinco Che l'unica regola fondamentale Che l'unica regola fondamentale È che io vinco Che l'unica regola fondamentale Che l'unica regola fondamentale Ok Ok io faccio così sono un drago ok allora strategia intanto strumento prendi pietra solare bellissima non mi serve assolutamente a nulla allora slacking per primo subito ciao adriano come te la passi ottimo il ragazzo ci dà da fare ok ne ha 5 noi facciamo sbadiglio non c'è problema tanto noi ciondoliamo poi cambio tattico lui continua a dormire dancia scada cattiva brutta e cattiva fai la tua spada bravo potevi evitarlo tutto sommato riesce a raggiungere ehhh problema porsche yes guardala com'è bellina questa potevi no 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 bene ma non dolce basso, volevo usare un'altra strategia io certo lui doveva dormire un po di più come al solito io in quello oserei dire che per te è la fine molto molto bene no, non voglio cambiare fantastico adoro no andrei non gioco solo a pokemon, in questo momento sto portando effettivamente solo a pokemon ma non gioco solo a pokemon, per esempio sto portando anche se non in live Age of Mythology Retold si sottovalutate ninja finché potete non credo che potete che ce la possa fare perfetto abbiamo finito ninja che è il vero GOAT di Zafiro Alpha grazie grazie ora il problema è a chi insegnare la MN cascata per esempio per esempio ma al che vada ma al che vada gliela disimparo che qua in questo gioco si può quindi un minimo di margine ce l'abbiamo borsa borsa dell'acqua calda si resci pugno via si resci pugno via cambio ordina andiamo a curare dai se l'abbiamo se l'abbiamo fatto ovviamente alla prima con un piccolo aiuto di uno strumento di qualche strumentino si curiamo salviamo e andiamo avanti guardiamo un attimo la mappa perché è importante noi siamo qua ok il percorso 10 l'abbiamo fatto 127 l'abbiamo fatto 128 c'è solo la grotta dei tempi ma poi ci guarderemo dobbiamo fare questo tratto d'acqua qua ora possiamo fare in una maniera andiamo qua da così e poi dritti fino al mattino poi c'è anche questa cosa qui cosa? valle segreta ah si ok c'è la valle segreta ok va bene 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 ma se per esempio ciao latias giro scoppio allora noi dobbiamo andare questa è nuova ciao 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 simpaticone ciao allora dicevamo la trabiscale dove dove diavolo sta? qua allora quella è la lega lì siamo così siamo così arriviamo qua poi andiamo per via marittima che facciamo prima allora abbiamo detto repellenti non abbiamo nessuna intenzione di cercare poche in questo momento super repellenti repellenti mash super repellenti repellenti mash buona 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 attacco ciao noi andiamo di qua ma che come è possibile? mi sei scappato rimediamo subito questo è piuttosto grave signorina signori venga qui ok tanto fa eracrossite mi serve un eracross è obbligatorio avere un eracross addirittura addirittura due allora facciamo una cosa molto intelligente che è che che è direi di non cambiare assolutamente a un'allenatrice o un allenatore ah un'allenatrice l'ho visto bene ok, si, ah, all in one una caramellara buonasera Jacopo bentornato alla fine del gioco una volta che ho finito faccio anche quello una volta battuta la lega cerco tutti i leggendari io però dove faccio andare da là? c'è quel quadra che non mi togge e io tipo vado di qua ah, vedi? si si come cuore? ciao Giacomo eh, si scusa ti avevo già risposto anche prima hai ragione eh, allora sono su citra nightly sto usando citra nightly lo trovi abbondantemente su cercandolo su un attore di ricerca qualunque un attore di ricerca direi che tu non sei un problema avendo battuta adriano no? mi invertible abbiamo battuto Manolo bravo bravo Manolo e tu lì sopra mi volevi sfuggire? non va mica bene questo e proprio per 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 Quimandi, sempre un altro Lugdisc, ci sta Quimandi, sempre un altro Lugdisc 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 Non è un problema Intro forza Questo è un problema Ma lo reggiamo abbondantemente Non così Non terreno Cambio Bene Il buon Raichu è andato Punti Speravo di trovare qualcosa qua sotto E invece Allora il pescatore qua l'abbiamo già fatto Bambino Che ci fa in mare da solo In mare aperto No E' pieno di bambini Trovo assurdo che dei bambini, vabbè che sono 10 anni, 12 anni anche io, quindi voglio dire Questa libertà data ai bambini Andiamo qua, ci curiamo, sicuramente c'è un centro Pokémon, ovvio Fantasma Gorico Ci curiamo e poi torniamo giù Abbiamo tutto quel tratto lì sotto da vedere Prima della Lega Grazie a tutti Ok, almeno fin qua ci siamo arrivati. Mi è risfuggito, cos'è? Perché? E' parto dal nulla? Isaia! E' parto dal nulla? Oh, insomma! Ok. Ok, due pescatori. Ciao! 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 No! Ci teniamo lui! Deve fare il suo lavoro lo deve fare anche lui. Ciao! Tommius! E' un gran Pokémon slacking! Ciao! 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 utile per livellare ci tornerò devo vedere cosa c'è di là in teoria ah è di qua un faccio blu al momento l'endisfera interessate? allora di qua non ci va pulizia e natura maio segreta ciao 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 e li like strumenti non ce n'è Sigh 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 ok mi piace questa cosa tanti bei livelli mi sa che qua c'è qualcosa una grande perla molto molto bene tornando negli abisci che sonno e Grazie a tutti. Sì, risaliamo. Questo è solo fuoco. E' un cazzo. Può anche andare bene. Migliacco. Ok. Ma la sua difesa non ha contato nulla. Cambio. Può anche andare bene. Può anche andare bene. Può anche andare bene. Grazie a tutti. Ok. Un po' vasto questo mare. Direi una per quattro in arrivo. Un po' vasto questo mare. 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 Una grigiosfera. Una grigiosfera. Quella di Giratina. Un po' di Giratina come volete dire. Per me è uguale. Facciamo che facciamo quelli in superficie e quegli altri vi facciamo al ritorno. che sennò diventa un problema. SVERShawn. Proviamo subito il problema Goldak! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Come va Notorious? Tutto bene! Signorina! Cos'è a sto posto? Ho capito! Qua c'è il mio tuo! Sicuro! Sicuro come il pane! Quando uno mi si parla davanti in quella maniera lì ti nascondi? Potrebbe essere tranquillamente un'idea Notorious! Devo prima finire quello che ho a mano nel senso che inizio a portare troppe cose e dopo non ci si capisce più nulla! Invertivolt! 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 Questa è la visione! Sì, sì. Ok, quindi tipo un rosso fuoco con la grafica di blu e giallo e rosso. È sicuramente da portare. Ok. Ok. Diciamo che lo metto in coda a tutti gli altri. Allora, qui c'è una bella coppia, ho capito. Una coppia di allenatori. Mi può anche andare bene in realtà. Ok. Ok. Qua ci siamo. Dai l'ultimo. Bravo, slacking. Fai così. Sì, lo ammetto. Blu è il mio preferito. Allora, lei l'ho fatto, questo l'ho fatto. Qui non ce n'è. Facciamo così. Sì. Siamo arrivati qua. Sì. 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 anche questa, vai nella borsa. Allora, io le carte Pokémon in realtà avevo anche iniziato a collezionarle con il chat Tennis regale, il problema è che è un nobby costollo, un po' tanto costollo... ...quindi al momento ho fermato la situazione... ...non ce l'ho, bell'osso, mi dispiace... ...la gattina, ti nascondevi? Ritorno! Attenzione, attenzione! ...mossa particolarmente interessante! Beh, immaginavo che parlando di Logan arrivassero in giapponese... ...no, io quello in italiano ho iniziato... ...però, ripeto, è impegnativo! ...qualle gli togliamo... ...rimonta? No! ...rimonta gli serve! ...facciata, non se ne parla neanche... ...eh, no, lui no... ...inutile... ...ci guarderemo magari in futuro, vediamo... ...eh, è una sad... ...roar ritorno è una buona mossa! Allora Ciao Robbie White Siamo arrivati Giunti Alla fine Di questa live E me ne dispiace Perché mi stavo divertendo Detto ciò Io vi ricordo Che domani Sabato E domenica Non ci sono Il mio malgrado Ho degli impegni Nel senso che sono fuori Domani e sabato E domenica C'è la partita Non esiste che io Sia Qui Gioca l'Inter L'Inter È l'Inter Fatemi vedere un attimo Perché è proprio la sera E anche mercoledì prossimo Ci sono Allora ci ritroveremo qui lunedì Con La solo run challenge Weedle Eh E chi è il patto che non la farebbe Solo run challenge Weedle Con le stesse regole di Caterpie Quindi Tanta roba Detto ciò Ci vediamo lunedì Ma è martedì Per questa Per questa solo challenge Giovedì e venerdì Giovedì e venerdì Torniamo su Zafiro Alfa Da computer Zenbiflaco Detto ciò Io vi auguro Una buona serata Tante cari cose Fate i bravi Non fate ciocchette E divertitevi A fare qualunque cosa Andate a fare Ciao Ciao